Insomma, un catanese che si chiama Catania, premiato MVP dopo il 3-0 con Catania, sembra una storia scritta dal destino. Sì, diciamo che fa un po' ridere, no? Però sì, è stata una bella partita da parte di tutta la squadra, una partita che sapevamo non era semplice. Loro hanno provato a spingere da subito con variazioni in battuta, noi abbiamo sofferto all'inizio e poi siamo stati molto bravi a recuperare. La nostra fase monodifesa è molto forte, lo sappiamo. Siamo un po' in diesel, un po' ci scherziamo su, ma stiamo cercando di lavorare anche su quello, perché quella è una parte molto importante che forse ci è mancata nelle partite più importanti. Perché si entra nella fase decisiva del campionato dove avete perso Piano e Kaziski? Siamo così questa settimana? Sarà un febbraio bello tosto adesso? Assolutamente, i ragazzi, tutti, lo staff, i ragazzi stiamo lavorando tantissimo. Non è facile, appunto, con le mancanze di Matte e Mattei, che saluto e auguro un in bocca al lupo. Speriamo di arrivare al completo per i payoff. Un augurio che ci facciamo tutti.